Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Prima di parlarvi dell'argomento del video di oggi, vi dico due parole sul fatto che non mi vedete nelle solite condizioni in cui sono ogni volta che giro un video. Infatti di solito sono truccata, indosso le lente a contatto, se devo girare in casa come oggi perché fuori non è bel tempo, di solito metto una luce davanti a me che mi illumini meglio, però oggi non ho fatto nessuna di queste cose. Sto registrando nel giorno di lunedì 24 aprile, quindi mi sto godendo questo ponte lungo che ho fatto perché appunto ho preso un giorno di ferie dal lavoro. Mi sono ritrovata a quest'oretta di tempo nel pomeriggio per poter registrare e ho deciso che per registrare un video con voi, che siete praticamente degli amici con i quali condivido la mia passione per la lettura, non era davvero importante essere impeccabile. Oggi è un giorno di relax, quindi non devo andare da nessuna parte, quindi non ho indossato le lente a contatto, non mi sono truccata, ma ho pensato che in ogni caso quello che conta davvero è l'argomento del video, ovvero i libri e le letture. E quindi ho deciso di registrare questo video esattamente come sono, che poi diciamo la verità non c'è assolutamente niente di male, né nel volersi truccare e mostrare un po' al meglio quando si registrano questi video, e neppure nell'essere ecco così totalmente naturali e spontanei se le circostanze lo richiedono. Quindi insomma, mi vedete così, ma in realtà quello che conta è ciò di cui voglio parlarvi, ovvero i 5 libri che porterei con me su un'isola deserta. Prima di darvi i dettagli su questo video e sulle scelte che ho fatto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Ho trovato questo video sul canale di Martina, Ima and the Books, e ho deciso di replicarlo perché l'idea mi piaceva davvero tanto. Si parla infatti di 5 libri che vorrei portare con me su un'isola deserta, e vi assicuro che non è semplice perché non basta scegliere i nostri 5 libri preferiti, perché la situazione in cui ci troviamo è davvero molto particolare e richiede una scelta accurata. Ho qui accanto a me i 5 libri che ho scelto di portare con me in questa avventura straordinaria, e adesso ve li mostro. Il primo è Tu, l'universo e il denaro di Cristo Mei. È un libro di crescita personale che ho letto qualche anno fa, diversi anni fa, e che poi ho fatto leggere praticamente a tutte le persone che conosco. Allora, il libro, non vi fate ingannare dal titolo, in realtà la parte relativa al denaro è davvero minima e si trova solo nella parte finale del libro. In realtà è un libro di crescita personale che insegna come attirare a sé qualsiasi tipo di ricchezza, non solo a livello monetario, ma proprio una ricchezza dal punto di vista delle conoscenze, delle persone che incontriamo, delle opportunità che arrivano a noi, sia a livello lavorativo che personale. Insomma, ci svela qual è il segreto per riuscire ad attirare a noi tutto ciò che ci rende felici, per avere una vita più felice, migliore e che soddisfi qualsiasi nostra aspettativa. Quindi si parla della legge dell'attrazione ed è stato il mio primo approccio a questa legge che ha davvero cambiato la mia vita in meglio. Sono tanti i libri di crescita personale che ho nella mia libreria, ma ho scelto questo perché gli altri non credo che avrei necessità di rileggerli in una situazione particolare come appunto trovarsi su un'isola deserta. Questo invece è un libro nel quale ho sottolineato veramente tanto, per darvi un'idea, ecco ci sono tutte le mie parti sottolineate, proprio perché è pieno di frasi motivazionali, di incitamenti, di insegnamenti positivi che secondo me ogni tanto c'è bisogno di rileggerli. Nel senso che anche una volta che l'abbiamo letto, col passare del tempo è necessario rinfrescare questi argomenti perché altrimenti ci ritroviamo un po' con la quotidianità che prende il sopravvento sui nostri sogni. E invece questo libro è capace di risvegliare tutta quella forza che abbiamo dentro di noi per attirare a noi la bellezza della vita e le cose positive. Quindi non c'è niente di più azzeccato in un'isola deserta quando magari insomma io mi potrei scoraggiare a volte visto che non so per quanto tempo ci dovrò rimanere. Il secondo libro che ho scelto da portare con me su un'isola deserta è un grande classico, Harry Potter e la pietra filosofale. Ho scelto il primo volume semplicemente perché l'inizio della storia per me è il più magico di tutti. In realtà ci sono due motivi per cui ho scelto di portare con me Harry Potter. Il primo è il fatto che questo è l'unico libro, o meglio l'unica serie, che io abbia mai riletto. Infatti io non sono abituata assolutamente a rileggere i libri, anzi l'unico libro che abbia mai riletto in vita mia è stato 3 metri sopra il cielo. Ma mi perdonerete perché ero un'adolescente innamorata di questa storia e poi innamorata anche di Riccardo Scamarcio che ha interpretato il protagonista nel film e quindi me lo sono letto due volte. Però in realtà non ho mai riletto niente tranne Harry Potter. Ogni tanto sento proprio il bisogno di rimmergermi in questa storia e mi rileggo tutti i volumi. Il secondo motivo per cui ho scelto questo libro è anche perché è un libro dai sentimenti positivi, che mi dà sensazioni positive perché è una storia di riscatto, è una storia di amicizia vera, è una storia che racconta quanto sia importante lavorare insieme, collaborare, è una storia in cui il bene vince sul male. Insomma ci sono talmente tanti insegnamenti buoni, positivi, che hanno segnato la mia adolescenza e la mia infanzia e la mia adolescenza che davvero è un libro che non può venire a noia mai, non può annoiare mai e quindi me lo porterei con me. Per quanto riguarda il terzo titolo ho deciso di scegliere qualcosa che mi ricordasse la mia famiglia perché appunto sono in un'isola deserta, sono completamente sola, probabilmente la mancanza della mia famiglia la sentirei bella forte e quindi ho scelto Canto di Natale di Charles Dickens, che è questo un grande classico, però è anche una storia che tutta la mia famiglia ha letto, quindi che conosce tutta la mia famiglia, una delle poche perché non tutti i membri della mia famiglia leggono quanto leggo io e soprattutto non tutti abbiamo gli stessi gusti, quindi è difficile trovare un libro che sia stato davvero letto da tutti. Ecco, Canto di Natale è tra questi e quindi l'ho scelto perché oltre a raccontare una storia che io trovo commovente, ogni volta che la leggo, ogni volta che la vedo interpretata in qualche film, cartone animato o adattamento di qualsiasi tipo, io la trovo davvero meravigliosa, per l'appunto commovente perché è un'idea che ci porta a riflettere tanto su quello che abbiamo fatto, ma soprattutto sul potere che abbiamo adesso per determinare il nostro futuro. E poi anche qui si parla di famiglia, dell'importanza della famiglia per l'appunto, non soltanto nelle feste di Natale ma proprio tutto l'anno e quindi mi ricorderebbe la mia meravigliosa famiglia che adoro, che amo alla follia e che mi mancherebbe tanto sull'isola deserta. Per il quarto titolo mi sposto qui, eccolo qua, perché ho scelto un libro lungo. Diciamo che è stata questa la principale caratteristica che ho ricercato in un libro da portare con me. Questo perché? Perché insomma non so per l'appunto per quanto tempo rimarrò su quest'isola, quindi ho bisogno di qualcosa che occupi il mio tempo il più a lungo possibile, visto che posso portare con me solo cinque libri. Chiaramente avessi scelto tutti i libri di, non so, cento pagine in pochi giorni, dopo aver pensato chiaramente a come procurarmi il cibo e come sopravvivere, comunque in pochi giorni avrei terminato tutto il mio intrattenimento e mi dispiacerebbe. Quindi ho scelto questo bel tomone di 1360 pagine, perché appunto so che mi terrebbe occupata per diverso tempo. Ma chiaramente come vedete qui non è l'unico libro enorme che io possegga, ma c'è un motivo per cui ho scelto Mondo senza fine. Questo è stato il libro che mi ha fatto scoprire Ken Follett come autore di romanzi storici e anche se non è il primo della trilogia di Kingsbridge, anche se in realtà poi non è più una trilogia adesso perché sono stati aggiunti dei volumi sia prima che dopo, comunque era noto come una trilogia e questo era il secondo volume. Anche se non è il primo, è il primo che io abbia letto di questa trilogia per l'appunto, tanto le storie sono autoconclusive, quindi è possibile anche leggerli in maniera scombinata. E quindi io mi ricordo che, questo l'ho letto alle scuole superiori, io facevo anche un viaggio in treno per andare a scuola e me lo portavo nello zaino, perché così in treno potevo leggerlo, mi ricordo che questa storia mi aveva completamente assorbita e per settimane dopo averlo finito avevo continuato a pensare alle storie e ai personaggi. Quindi, essendo passati tanti anni, io i dettagli assolutamente non me li ricordo, ma direi che non ricordo quasi niente della trama di questo libro e quindi sarebbe per me comunque una scoperta e in più so già da prima che mi piacerebbe, che mi coinvolgerebbe di nuovo e che soprattutto mi farebbe compagnia per diverso tempo. Quindi questo sarebbe uno dei libri che verrebbe con me. Ultimo, ma non per importanza, ho deciso di portare con me un giallo. E voi direte, ma che senso ha portarsi un giallo su un'isola deserta? Quando l'hai letto e sai che è il colpevole, non lo rileggerai mai più, perché l'obiettivo del giallo è proprio scoprire chi sia il colpevole. Poi, una volta che si è scoperto, non avrebbe senso rileggerlo. Ma io ho il libro perfetto, ovvero tutti i racconti di Sherlock Holmes. Questo è un libro adatto da portare su un'isola deserta per più motivi. Prima di tutto è enorme. Vi dico che le pagine, praticamente, è una Bibbia. Le pagine sono sottilissime. Infatti ci sono ben, ora ve lo dico, 1375 pagine. Quindi più o meno siamo come nel libro di Ken Follett. Ma sono tanti racconti. Quindi potrei diluire la lettura nel tempo. Magari un racconto al giorno, un racconto ogni due o tre giorni, eccetera. E ogni racconto sarebbe una nuova avventura. Quindi comunque, anche se non lo rileggerei mai, in ogni caso occuperebbe tantissimo del mio tempo e sarebbe come leggere, per l'appunto, tanti brevi libri, tanti racconti, come in effetti sono quelli custoditi in questo libro. Oltretutto, questo non l'ho detto, ma è abbastanza scontato, io non l'ho ancora letto questo libro. Ecco perché ho deciso di portarlo con me. Io non ne conosco le storie che sono al suo interno. Quindi sarebbe perfetto da portare con me su un'isola deserta. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, che vi sia risultato interessante anche scoprire le motivazioni che mi hanno portato a scegliere questi determinati libri. E adesso spazio a voi. Lasciatemi nei commenti quali sono i libri che voi portereste in un'isola deserta. Mi raccomando, pensateci bene perché avete solo quei cinque e dovete sceglierli con cura. Sono davvero molto curiosa. E niente, io per il momento vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Ciao!